Per settimana sport siamo con Davide Bianchetti del San Bernardino. Allora Davide è una vittoria diciamo meritata, però nel secondo tempo vi hanno chiuso proprio in difesa. Sì, è vero, è vero. Sapevamo di giocare contro una delle squadre più fuori del campionato e abbiamo approcciato secondo me nel modo giusto. Abbiamo sofferto i primi dieci minuti, un quarto d'ora che ci hanno messo sotto, poi siamo riusciti a trovare le misure, abbiamo fatto un finale di primo tempo strepitoso, infatti siamo andati in vantaggio di due gol e poi nel secondo tempo ce l'aspettavamo che loro uscissero di più con tante palle lunghe perché hanno tanti giocatori alti e forti fisicamente che ci potevano mettere in difficoltà, però siamo riusciti a reggere bene e niente, ora siamo contenti, siamo terzi in classifica e direi che continuiamo il nostro cammino. Direi una buona posizione, dai, zona playoff. Assolutamente, assolutamente, tutto meritato. Ok, grazie Davide, ciao.